Riprendiamo dunque la traduzione, leggendo nel 347 la legge dell'apocope, cioè nell'oiato tra una parola e la terza persona singolare indicativo del verbo essere, cade la e di est anziché l'ultima vocale della parola precedente, patriast dunque l'abbiamo letto. Sotto invece, fenisam libicee quaspectus detine turbes, non si vede bene dove è la pausa, una pausa netta è nel secondo, dopo il secondo accento, mentre la pausa normale che dovrebbe essere al terzo, vedete, è meno evidente perché c'è questo que che pure perde la sua vocale, quindi non è nemmeno una sillaba, che quindi rende meno evidente, vedete, appuntino, abbiamo messo la pausa in terzo accento. Il terzo accento è un po' una stranezza, no? Trovare la pausa dopo il secondo accento non accompagnata da una seconda pausa al quarto, quindi con la doppia pausa. La combinazione, in secondarsi la pausa più la pausa mediana è meno nota, ma qui appunto la pausa mediana, quella dopo il terzo accento, si sente pochissimo, non è tanto evidente. Andiamo avanti. Fermiamoci che poi salta, se no, la fotografia. Traduciamo fin qua. Ma ora, i Apollo Grineo, Iussere, e anzi, mettiamo anche il secondo soggetto, Apollo Grineo e Sortes Lice, e gli oracoli di Licia, Iussere, mi hanno ordinato capessere di raggiungere Magna Mitalia, la grande Italia. Questo l'amore, questa è la patria. Notate che di nuovo Enea, in maniera piuttosto dura, ricorda a Didone che il suo amore non è questione di sentimenti o di avere la possibilità di scelta. L'amore, l'amore e la patria sono determinati dall'ordine degli dèi. Sì, qui un'altra argomentazione, anche qui come nel caso precedente, vediamo che Nea ricorre anche ad argomenti, diciamo così, di giustizia, di equità, di valore non tanto affettivo ma razionale. Sì, arces cartaginis e aspettus urbis libice, quindi se le rocche di Cartagine, le rocche veramente al plurale, e la vista della tua città libica, detinet, trattiene te o Fenicia, Allora, qu'è invidia est? Qual è l'invidia? Qual è la disapprovazione che i Teucros considerano e si stabiliscano nella terra italica? Alla fine, spieghiamola bene. Allora, intanto ricordate che Didone ha chiamato Enea ospes, ospite, un tempo ti chiamavo marito, ma questo nome mi resta ora da marito, quello di ospite. Quindi, con un cambiamento, diciamo così, di appellativo, lei segna con rabbia il nuovo stato di Enea, che non è più il suo amore, ma è un ospite. Allo stesso modo, Enea, anche qui vediamo che per quanto Enea si sforzi di reprimere la frustrazione, anche i sentimenti e la rabbia, traspare qualche aspetto della sua emozione. E qui lui, al termine ospite con cui è stato chiamato, straniero, adesso si rivolge a lei, prima col termine di regina, ora col termine di Fenicia o Fenicia, e non più appunto con il nome dell'intimità e dell'affetto. Dunque, abbiamo detto due soggetti, ma il verbo è al singolare, con una concordanza a senso. Se le rocche di Cartagine e la vista della città libica trattiene te o Fenicia, quindi è la apodosi del periodo ipotetico. È un periodo ipotetico della realtà, cioè si sta accostando tanto che effettivamente Didone non potrebbe mai seguire Enea, perché è troppo legata alla sua terra. La protasi, quindi questa è la protasi, dicevamo del periodo ipotetico, la apodosi, cioè la principale, è resa da una domanda diretta. Que invidia est? L'interrogativa diretta che vediamo è introdotta da que, che non è il pronome relativo, è l'aggettivo interrogativo. Quale invidia è? Qual è l'invidia? Qual è la disapprovazione al fatto che i Teucri si stabiliscano? Teucros considera terra Ausonia, terra Ausonio è stato il luogo inablativo, Teucros considera, dicevamo, è il soggetto e l'infinito di una subordinata oggettiva. Riprendiamo a tradurre da 350. Et nos fas ex terra quere regna. Anche a noi fas è lecito, querere, cercare un regno straniero. Insomma, Enea sottolinea che anche Didone è dovuta scappare dalla sua patria, anche lei non può tornare indietro nella sua patria e ha fondato una nuova città in una terra straniera. Quindi perché non riesce a capire che anche Enea e il suo popolo hanno diritto a un futuro, a fondare un regno? Di nuovo, altra argomentazione, me, patris, anchise, quotiens, eccetera, quotiens, quotiens, vedete due temporali, segnate sempre nella seconda parte del verso, 352, 352. Il verbo principale è abdmonet, quindi partiamo dal verbo principale, dal soggetto che è imago. Allora, il padre anchise, anzi, l'immagine, il fantasma del padre anchise, quotiens, ogni volta che la notte, Nox, operit, copre, terras, le terre, con le sue ombre umide, umentibus umbris, ogni volta che, di nuovo, quotiens, surguntastra igna, sorgono le stelle fiammeggianti, admonet, mi rimprovera nei sogni e mi atterrisce, turbida, adirata. Questo participio, scusate, questo aggettivo a funzione predicativa, mi atterrisce, essendo adirata. Quindi è un aggettivo, comunque, in funzione predicativa. Mepuer, Ascanius, il mio bambino, il piccolo Ascanio, me, e poi vediamo di là, riprendiamo a tradurre. Vediamo se riesco adesso a saltare direttamente la prossima slide. Ci vuole un attimo, ma ce la faremo. Dov'è? Allora, dicevamo, me, il bambino Ascanio, sottinteso, mi rimprovera, mi ammonisce, e il torto del suo caro capo, cioè il torto che faccio al suo caro capo che io fraudo, privo del regno d'Italia e dei territori fatalibus a lui destinati. Quindi, sempre sottinteso Admonet, anche in questa seconda parte del periodo, di nuovo Admonet principale, il soggetto è Puer Ascanius, ma anche un altro soggetto è Inura Capitiscari, cioè mi fa sentire in colpa, mi rimprovera il bambino Ascanio e soprattutto l'offesa che faccio, sottinteso, l'offesa del suo caro capo, cioè l'offesa sulla sua testa che io privo, quel bambino che io privo, quella testa che io privo del regno, della corona d'Esperia. Nunc etsiam interpres divom missus abipsus, Vedete che qui il verso è incompleto, è uno dei 58 versi, i tibici, i travicelli cosiddetti, quelli che Virgilio non fece in tempo a completare perché morì appunto nel XIX a.C. Ed ora, dicevamo, ora è il messaggero degli dèi, mandato da Giove, è chiaramente Mercurio, Testor utrunque caput, lo giuro sulla testa di entrambi, Detulit mi ha rivelato, veloce attraverso l'aria, gli ordini. Quindi, vedete come insiste, missus mandata, dove è la stessa radice, lo stesso verbo, c'è un po' l'iptoto, potremmo dire, no? Il verbo mito e il verbo mando indicano la stessa cosa e indicano sia mandare sia dare istruzioni, dare ordini. Quindi c'è anche, vedete, l'allitterazione della M che insiste, utrunque divom missus mandata, manifesto, cioè indica proprio la volontà di Enea di ficcarlo bene in testa a quella ostinata regina fenicia che si tratta di ordini divini. Sono mandata monitis di, monita di Giove. Quindi l'interprese degli dèi, abbiamo detto divom, vedete, non deorum ma divom nella forma arcaica di genitivo plurale, missus abipso, l'abbiamo tradotto, mandato da lui stesso, cioè proprio da Giove. Mi ha rivelato detulit, è il verbo reggente, da defero. Ipse, riprendiamo a tradurre da 358, e io stesso, anzi, il lumine manifesto, in pieno giorno, vidi, ho visto il Dio in Trantem muros, che entrava attraverso le mura e ausi, e ho sentito con queste orecchie la voce, la voce del Dio. Allora, vidi in Trantem muros, anche qui vediamo un bel esempio del participio con valore congiunto, che lo troviamo con i verbi di percezione. Di solito ci dovrebbe essere un'oggettiva, ma a volte al posto dell'infinito c'è il participio. Scusate, mannaggia a me, non congiunto, predicativo. Vidi, dunque, il Dio, deum, che entrava, che il Dio entrava, il Dio che entrava, il Dio entrante. Allora, se fosse attributivo, ridiciamoli tutti così ce li ricordiamo, se fosse attributivo, potrei tradurlo, vidi il Dio che entrava. Se fosse congiunto, vidi il Dio mentre entrava. Ma ci sta meglio il predicativo, secondo la lingua latina, e dunque, vidi che il Dio entrava attraverso i muri, come se in Trantem, dunque, avesse valore di infinito. Come vedete, non è mai netta la distinzione tra i vari valori sintattici del participio. Ricordatevelo, l'unica distinzione netta è quando il participio isolato deve essere sostantivato rispetto a questi altri valori, questi altri tre attributivo, congiunto e predicativo, che abbiamo rapidamente richiamato, ripassato. E dunque, finiamo di tradurre. Desine, verbo reggente, all'imperativo, smettila incendere, di tormentare me e te stessa, tu, Isquerellis, con le tue proteste, con i tuoi pianti. Non vado in Italia, non seco all'Italia, ma non inseguo, non cerco l'Italia, sponte spontaneamente.